L'arciprete parroco di Bonvenziere, Don Salvatore Pignatone, ha celebrato nelle ore pomeridiane di ieri la santa messa presso la locale casa di riposo San Pio di Pietrelicina. Così come l'anno scorso e anche quest'anno, in vista del Natale, gli anziani dell'esodalizio, unitamente al personale e in servizio, hanno partecipato con gioia alla celebrazione animata dai giovani e dai ragazzi della parroccia. E' seguito poi un momento di fraternità.